Nel pomeriggio il secondo giro di consultazioni per Draghi, il premier incaricato a lavoro su squadra e programma per sciogliere la riserva. Riunione infuocata dei 5 Stelle, Di Maio, responsabilità, Conte, non entrerò nel governo, sostegno di PD, Leo e Italia Viva al nuovo esecutivo. Salvini sì per il paese, ma centrodestra unito, Forza Italia, Draghi, una garanzia, Meloni, voteremo solo provvedimenti per il paese. Da oggi si allarga l'Italia in giallo, zone rosse, Alto Adige, Perugia e altri comuni, al via la vaccinazione per gli over 80 nel Lazio. A Cortina una forte nevicata fa saltare la combinata donne, prima gara dei mondiali di sci, attese le decisioni sul nuovo calendario. Buongiorno dal Tg2, partirà tra poco il secondo giro di consultazioni per il Presidente del Consiglio incaricato. Dal confronto con i partiti emerge un ampio consenso al progetto che si sta delineando. A Draghi la scelta ora tra un esecutivo tecnico oppure uno politico, ma non si esclude neanche un mix tra le due ipotesi. Sentiamo allora Fabrizio.